Cognome? Baiano. Consonni. Soprannome? Ciccio. Gigi. Età? 55. 46 anni. Un pregio della tua squadra? A grande carattere. Che non molla mai e ha un grande cuore. Un difetto della tua squadra? Che a volte si addormenta. Un difetto bisognerebbe chiudere le partite prima. Sei soddisfatto di quello che ha fatto la tua squadra fino ad oggi? Sicuramente sì. Certamente. L'ultima cosa che dirai ai tuoi ragazzi prima di scendere in campo domenica? Di vincere la partita. Che dobbiamo vincere. Se dovessi vincere cosa significherebbe? Avere tre punti in più in classifica. Significherebbe tanto perché vuol dire dare continuità a quello che stiamo facendo. E se dovessi perdere? Che bisogna pensare alla partita che arriverà. È un problema. Com'era l'altro da giocatore? Un ottimo calciatore. Molto forte. Un giocatore pazzesco. Il compagno di squadra migliore che hai avuto? Ne ho avuti tanti ma ovviamente non ho avuto l'onore e il piacere di giocare con i più grandi di tutti, con Diego Maradona. Diciamo negli anni di Grosseto che sono stati gli ultimi anni da professionista sicuramente Piniglia.